Per vari motivi, per un punto di vista legato allo sport in generale, quindi dal punto di vista motorio, nel rugby tutto l'aspetto cognitivo, educativo, sociale, formativo, è uno sport di valore, è uno sport che ti insegna tanto, ti insegna come vivere la vita veramente, perché una partita di rugby è lo specchio di quello che succede dal di fuori. Quindi già il fatto di doversi sacrificare continuamente, di andare a sostenere il compagno, di lavorare per gli altri, questa è una cosa fondamentale.